Ospiti domeniche in, Verissimo, CTCF, riecco alcuni ex GF VIP. Sabato 22 e domenica 23 aprile 2023 saranno diversi gli ospiti che saranno protagonisti nelle trasmissioni di Punta Rai e Mediaset. A Verissimo ci saranno Roberto Bolle e Sonia Bruganelli, nei giorni scorsi al centro del gossip, si è mormorato che il matrimonio con Buonoglis fosse finito. I diretti interessati hanno smentio. A domenica in Maravini e riceverà, tra gli altri, Rita Pavone e Pierfrancesco Pingitore. Tra gli invitati di Francesca Fialdini e Adanui. A ruota libera ecco Gigi Erosa e Veronica Pivetti. Silvia Toffanin, in onda sabato e domenica a partire dalle ore 16, 30 su Canale 5. Ospiterà in studio diverse celebrità tra cui due ex protagoniste del GF VIP 7. Sonia Bruganelli e Milena Miconi. Sabato riceverà. Domenica 23 aprile sarà la volta di. L'appuntamento con domenica in E come al solito alle ore 14 su Rai 1. Mara Venier ospiterà i seguenti personaggi. Appuntamento come al solito su Rai 3 a partire dalle ore 20, 00 per il pubblico di CTCF. Fabio Fazio riceverà i seguenti personaggi. Articolo in aggiornamento. Il programma di Francesca Fialdini prenderà come al solito la linea su Rai 1 a partire dalle 17.20. Questi gli ospiti attesi. Nel serale di Amici, in onda su Canale 5 sabato 15 aprile a partire dalle 21, 30 circa, sbarcheranno.